Liberi come le stelle, contro ogni carcere giorno dopo giorno. Ritorno all'appuntamento con le cene di Scarceranda, ogni primo venerdì del mese al Forte Prenestino. Venerdì 4 marzo, porta aperte dal carcere. Ore 19.30, aperitivo reading, letture e racconti di esperienze dal carcere. Ore 20.30, cena Scarceranda. A seguire, selezioni musicali. GSOA, Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Centocelle. Perché il carcere nuoce gravemente alla famiglia.